Il Festival del Racconto, il film, fa tappa a Sanicandro di Bari, al Castello Normanno Svevo, per un appuntamento dal titolo del racconto L'Adolescenza, in collaborazione con il Centro Pugliese per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Ospite d'onore, sia pure da remoto, Fiorenza Sarzanini, firma di punta del giornalismo italiano, che ha raccontato, attraverso affamati d'amore, l'anoressia che ha vissuto, come si è curata, come è riuscita ad uscirne. E perché ha deciso di impegnarsi in prima persona, perché questo male così insidioso sia trattato come una vera emergenza. Un'inchiesta che fa luce su una malattia del nostro tempo e accende una speranza. Il Festival di Cinema e Letteratura, l'unico in Puglia che associa il cinema e la letteratura solo su temi sociali, in quanto organizzato da una cooperativa sociale che si chiama I Bambini di Truffo. Tra l'altro tra le unicità ha la possibilità che è itinerante, gira in vari comuni, in vari luoghi ed è l'unico festival che entra nelle carceri pugliesi. La bellezza dopo due anni dell'incontro con le persone, spesso e volentieri la gente si ferma anche oltre il tempo necessario perché vuole parlare, vuole discutere, si ferma con i registi, con gli autori dei libri e questo significa che ci fa me sete, voler ritornare a una certa normalità. È un evento importante che teniamo a promuovere sempre di più ed è un evento che lascia il segno nella nostra comunità. Lascia il segno perché permette a tutti i concittadini, anche a tutti i fruitori delle altre comunità che ci raggiungono in queste bellissime serate d'estate, di essere protagonisti di eventi sempre più ampi, sempre più attenti alle realtà del territorio, sempre più attenti alle tematiche cogenti della nostra società.